Il nostro compito è sempre più difficile, facciamo di tutto per proteggervi, ma voi avete vite complicate, autopotenti e la testa altrove. Noi vi diciamo di evitare surpassi azzardati, di controllare la velocità e le distanze, non bere prima di guidare, ma dovete fare qualcosa anche voi. Ricordatevi di allacciare le cinture di sicurezza. Aiutateci a proteggervi.